E ciao a tutti i miei, io sono la vostra Gida Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video Zoom Zoom Zoom! Allora, noi siamo ancora a Milano e questa è l'ultima notte che prendiamo qui, che è la terza notte però domani è quarta giornata, ci andiamo al pomeriggio Allora, in sostanza, qui come vedete, ci sono delle cosucce che abbiamo acquistato qui io domani sicuramente se troverò qualcosa che mi piace me lo prenderò però intanto stiamo facendo un video per farvi, a parte i saluti, come vi ho promesso e poi voglio farvi vedere tre corsine che ho ovviamente, diciamo, voluto io spontaneamente regalare al mio fidanzato sempre per il suo compleanno, comunque regalarlo a 8 settembre però è un anticipo, diciamo, del regalo che ho voluto fare di questa vacanza e tutto il resto in più vi faremo vedere cosa abbiamo preso da Hard Rock Caffè Milano e io vi faccio vedere una cosucce che invece ho preso io per me da Victoria's Secret domani se troverò qualcosa che mi piace me lo prenderò, nel caso vi farò un altro video però adesso vi facciamo vedere queste cosucce però prima iscrivetevi sul canale su YouTube Gilda Passion, mi raccomando, e seguite anche il mio fidanzato il canale Crudo Cotto e Mangiato con Rombolo su TikTok invece seguiteci come Gilda Passion 94 dove sto mettendo tanti piccoli programmi di video e seguite anche lui su TikTok Crudo Cotto Mangiato 72 ma non perdiamoci in chiacchiere, ora faccio tutti i saluti e poi vediamo tutte le cosine io saluto Michele Cerrone poi saluto Cosimo Leporale Marco Piso Teresa Magellano poi saluto Cosimo Leporale grazie ancora per il video che ci ha dedicato con le nostre foto e la musica e tutto il resto poi saluto Leopardo Francese Marco Francesco 106 DTS Eleri Angelo Shano Meliziano Donato Stefano 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 Vincenzo De Guelto Grande Enzo Pietro poi saluto Lucky Punk Star e la sua compagna Leopura Moreno Fabio M89 Mauro Zambon poi saluto poi saluto Mauro Monopoli Shano Meliziano non so se l'ho già salutata siete tanti tutti i miei ma io ho promesso e vi saluto Emilio Lovieno Max Trunetur Italia Avram Fiorenzo Fazio Serena Di Silva Achille Lozingro Ilaria Simeoni Mattia Love Giulia Ilaria Claudia Sergio Nicillo Mauro Mauro Datorino Udira Ludriguez Marco Noemi Matteucci Saveria Todo For You Valeria Rossi Emilio Lovieno L'ho già salutato L'ho già salutato Violetta Simone Fosto Giovin Michele Piscazzi Antonella Etro Iolanda Nicola Gaurie E infine voglio fare un saluto speciale perché non mi sono dimenticata e come promesso te lo faccio volentieri Domenica 7 agosto se non erro è stato il compleanno di Alem Auguri E baci fashion a tutti quelli che hanno lasciato i commenti e tutti Va bene ma adesso andremo a vedere queste belle cosine che diciamo che abbiamo qui Io voglio prima partire da quello che ho preso per me da Victoria Secret E lui mi ha aiutato a scegliere Abbiamo dei gusti Allora io da Victoria Secret ho preso questi praticamente questi erzomi slip insomma Io li colleziono Io ho preso praticamente questo qui vi faccio vedere C'era la promozione Ogni tre slip puntandini è quello che è Pagate tipo 3,90 Io ho preso questa qui un attimo che ve la faccio vedere bene Ecco ho preso questa qui Guardate Questa è bella E così Fa con i curicidi dorati ai lati E dietro fa praticamente Poi Poi ho preso questa qui Perché sbaldini? Sì A quest'ora Io ho detto a non è mio Facciamo il video domani mattina Sono svegliissimo Non è che sta dormendo sul tavolo Ricordiamo che ci sei anche tu nel video Poi abbiamo Sì perché è tardi E' oltre l'una a quest'ora Ed è l'ultima volta che torniamo qui Ecco Voi direte perché state registrato adesso? Perché stiamo registrando due video adesso Però le programmeremo per domani Probabilmente uscirà uno domani mattina e uno domani pomeriggio Sera Poi questa qui Di Vittoria Secret Bellissima Questa Ecco Questa praticamente si può dire un tang Con la B di Vittoria Secret Fantastica E poi Praticamente questa qui Ecco Molto semplice Nera Molto bella E dietro è praticamente così Ecco Fantastica E questa qui è la mia roba da Vittoria Secret Ora vi facciamo vedere quello che invece abbiamo preso D'Art Rock Caffè Milano Abbiamo consumato ovviamente anche al ristorante E abbiamo preso Vabbè andate a vedere su Piktok Comunque abbiamo preso Roma di carne E questi e questi qui Anelli di Cipolla Guardate che cosa ho preso a me E al mio amore L'ho preso uguali a me e a lui Buono Come buono Amo mi sa che tu stai dormendo Non è che buono Guarda Bella Bella Volevo dire Hard Rock Caffè Milano Milan Nel senso che c'è scritto Internazionale In lingua dicevo internazionale Questa qui Questa volta non mi andava di prendere la classica Tipo quella bianca con la scritta Come quella che ho io a Roma Ho voluto prendere questa qui E' identica praticamente L'ho presa L'ho presa L'ho presa all'amore mio Questa è quella Ovviamente lui la taglia è un po' più grande di me Perché ovviamente Io ho preso l'XX Perché le dittino sono strette E lui invece ha preso una L Ecco vedete Poi la cosa bella è che questa maglietta qui di Hard Rock Caffè E' bella gommata E' gommata La volevo da un sacco di tempo Bella gommata Mi piace un sacco Ecco il mio Poi siccome praticamente Sappiate che Se voi da Hard Rock Caffè In Milano Ma non so se anche a Roma Comunque Se voi da Hard Rock Caffè Spendete Diciamo Non conta la ristorazione Se voi acquistate Diciamo Dallo shop di Hard Rock Almeno Fate una spesa di minima di Credo 40 euro Vi regaleranno Una piccola boraccetta Ecco Questa è la boraccetta di Hard Rock Caffè Molto semplice E c'è anche il moschettone Vedete C'è anche il moschettone qui Ecco Molto bella Praticamente Aspetta Ecco Nella zona di ristorazione Quando siamo saliti al piano superiore per mangiare Praticamente noi Diciamo Ci hanno dato Per pulirci le mani Queste salviettine Non so La citronella suppongo Per Cioè Per le salviettine umidificate No? Per pulire le mani Sì Per pulire le mani Noi per ricordo ce le siamo praticamente tirute tre E niente Questo invece è un semplice accendino Che ho comprato da un tabacchino Per poter accendere le candele della Che stavano vicino alla vasca idromassaggio Che avete visto Va bene Ma adesso Voi farvi vedere al pubblico Adesso la parte che riguarda lui Parlerà lui Vi spiegherà Diciamo Le cose che gli ho regalato E man mano che ve le farà vedere Vi mostrerà Come stanno al piede Lui considerate che è alto 1,82 m E calza 44 m Però alcuni modelli andavano una mezza misura in più Perché vestivano un po' stretto Adesso amore mio lascio a te la scena Panna tu Per farle vedere così Vedi un po' Ok? Vi lascio con Romolo del canale crudo cotto e mangiato con Romolo Allora buonasera a tutti E bentornati insieme nel canale Cioè Sicuramente le persone che mi seguono Sul canale crudo cotto e mangiato con Romolo Mi raccomando Chi non è iscritto ancora sul canale crudo cotto e mangiato con Romolo Iscrivetevi E seguitemi anche su tiktok crudo cotto e mangiato 72 Quindi Sicuramente il mio amore Ho dovuto fare un grandissimo regalo Perché lei mi fa sempre dei regali E mi ha preso Il primo pallo di scappa Che è questo qui Guardate che meraviglia Le night Bello veramente Uno Per il primo momento a piedi Eh sì, falla vedere La faccio vedere Fai quella con uno Non guardarmi Esattamente Mi metto Fado cerchi di farla vedere come puoi La scalpa A meno uno per farla vedere come puoi Sì sì, bello normale Falla vedere Faccio vedere Grazie Di niente vita mia Poi vengo lì e ti bacio tranquillo Falla vedere Tu vedi il telefono se si vede Questa è la prima scalpa E falla vedere bene Bellissimo Siediti pure Falla vedere Vedi se hai in inquadratura Sì Tranquillo Vedete Bello veramente Original night La prima Queste qui Vi faccio vedere Sono queste qua Venite? Belle veramente Bellissime Amore Benissimo amore Benissimo amore Chiazzo Sono comode E qual è mettere al piede? Questa è la scarpia che avvolge molto il piede, quindi va bene proprio la taglia precisa. Invece le altre due, l'altra che vedrete dopo e quella che avete visto prima, è consigliata una mezza taglia in più, un mezzo numero in più. Ecco qui, bella veramente. Fai vedere sotto la pianta com'è bella. Puoi togliere e farle vedere come ho fatto con le altre, tutte due vicine. Vedete che meraviglia? Per il tuo compleanno, perché sarà l'8 settembre, perché comunque il mio grande amore compierà 50 anni, mezzo secolo. Io ho voluto regalarvi queste 50 anni, me ne sento come un ragazzino. Io ho voluto regalarvi questa vacanza un po' da sogno. Queste sono le altre scarpie che mi ha preso. Allora io le chiamo le N, ma non si chiamano le N. Bene veramente. Sono veramente contento, amore mio, grazie. Le N e B sono belle. E sono anche comode. Ho voluto regalarti una nera, una grigia e una blu. Così hai tutte e tre i colori adesso, hai visto? Sì, puoi mettere i problemi nei lacci. Bene veramente. Mi faccio vedere. Quelle sono proprio must have, non passeranno mai di moda. Specialmente le N e B non passeranno mai di moda. Bene veramente. E ovviamente non passeranno mai. Bene. Ricorda ai miei amici a casa, alla nostra femmine, quelle che ti regalai l'altra volta. Queste qui sono. Volevi vedere quelle che ti regalai l'altra volta? Questa volta mi ha regalato anche il mio amore le TN Nike. Bellissima la mente. Amore mio. Ti posso dare un bel bacio prima di concludere questo video? Queste qui sono proprio doc. Va bene. Mi puoi fare un senso a gridare? Poi siamo a qualsiasi ora la linea. Certo. Un bel bacio te lo voglio dare e mi devi fare un bel ala doc e un bel altro al top. Allora. Ricordatevi. Io sono Gilda Fashion su YouTube e Gilda Fashion 94 su TikTok. invece lui, crudo cotto mangiato con romolo su youtube e su TikTok Tácrudo Famicato 72. Ricordatevi che se il maestro per tavola di cuore mangiato vi regala sorrisi, Gita Fashion vi regalerà sempre a piacere. E' vero amore? Perché? Visto che siamo oltre a luna di notte in hotel, non possiamo bridare, potresti fare un Alladoc più sottovoce? Alladoc! Ecco! Adoro! Top! Per questo video è tutto, adesso faremo un altro video da registrare e da programmare sempre per domani, però sì, non faremo uscire questo. E faremo un video challenge in cui assaggeremo qualcosa di super piccante, così da contentare anche una richiesta di qualcuno che ha fatto. Ma l'avremmo fatto lo stesso perché era da tempo che volevo realizzare questa cosa e a questo punto la realizzo in coppia con lui, con il mio amore. Un bacio amore? Un abbraccio immenso e un bacione? Un bacio a tutti, un bacio a tutti. Ma era sempre come a me.